bello ragazzi sono gk01 e oggi siamo nel quinto episodio della serie di younger games siamo tornati e siamo nella mappa merda mi hanno fregato l'emmetto siamo nella mappa highway intanto questo mi ha rotto che va nel posto in cui non deve mi ha già stufato oh basta queste coracce però mi serve oh basta ho trovato tutto tutto tranne niente oddio 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 no no pure questo no oddio oddio che fortuna li ho erati tutti e due io no io mangia la mela c'ho paura dio no rega no rega beh comunque stavo dicendo che siamo nel quinto episodio ragazzi è molto è molto è molto ragazzi mi sono picciato aspetta fatemi sapere nei commenti se vi piace cioè se devo continuare c'è se devo continuare con questo amico qua che è un po' nabbo però però vabbè andiamo a vincere stavarti beh fatemi oh la è morto uno andiamo 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 dove sta ho visto il fulmine di poca scappo eccolo 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 oddio dai scappi vedi raga appena vedono i geek e scappano tutti oddio ho scoperto una nuova cessa la sotto l'albero oh dai dove scappi non puoi scappare il geek la c'è da nord tu 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 si già sei morto poverino povero 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 no ma chi la sto bruttone va chi è quel mona che ha buttato tutta sta roba per terra eccolo oh oh vieni fufi tu non ho mai visto invece si io raga con questa partita sto a fare strage oddio no come l'ho chillato questa sembra ci aveva chillato no buttati stivali ok andiamo continuiamo il nostro giro ok tu 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 da questa partita dove vince comunque perchè sapete ho chillato praticamente tutti io sarebbe bene eh chi la c'è vince sai capito capito se ok io continuo a fidarmi del mio amico che dice che la katana cioè spada in legno che ha fila del savona è meglio della spada in pietra mi fido eh ma comunque io buttare roba per terra oh ok allora mettiamo le Ender Shests allora buttiamo il cervello che in questa texture invece della carne marcia ragazzi c'è il cervello stupendo ok 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 ltt oh vedi 6.000 what 6.000 what bellissimo 6.000 bella sto cesto abbannamo qua ok 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 voglio le frecce voglio le frecce voglio le frecce ma ho tutto questo pesce a me il pesce non mi piace metà di tutto pesce ma vedete troppo tutto pesce tutto questo pesce non mi piace a me voglio più voglio più fa fa vedere ah il pollo la carne no tutta sta carne potrei morire di colesterolo ma io te no ok andiamo andiamo verso lo spawn che se famo col cavolo perchè non c'ho lo stick merda boy no andiamo 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 qua mo sento qua trovo gesù gesù si troverò gesù ora ragazzi pisellino ha chi la tua riccia eh pisellino fa strage no piazza dnt tentato omicidio dai no 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 dio raga dio la so riuscire a mangiarmela non è vero non l'ha mangiata no 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 ce n'è un altro no no ce n'è un altro quando io non gli ho chiesto dai dai speriamo a seguire l'anno tra di loro scusate l'attimo di silenzio rega ma sto buffone che mi ha preso addietro no si è fatto pure la spagnamate si è fatto pure la spagnamate fuc-tu quelli vieni dai non vincerò mai oddio no raga no Dopo questa no, raga Mi merito 40.000 like No, 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 no Non posso morire, certo, così Ma ve lo scordate proprio No, lag, 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 lag Ma ve lo scordate Che io muoio così Mettiamo la carne Dio, raga Ma do, era meglio non ci veniamo La sponda mi ha fatto caga sotto No, con acciarino Eh, poca miseria Sì Oh, chi la vuole gaspa in avanti No No No, ragazzi Non ci credo Non posso essere morto così Vabbè Raga Questo video lo carico lo stesso Perché, cioè Sarà una bella partita Non pensavo mi togliesse 8 cuori Con 7 Quanti erano con una TNT Vabbè, raga Spero che questo video vi piaccia Vi sia piaciuto Quello che vi pare Noi ci vediamo in un prossimo video Commentate Condividete Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti